un minuto compadre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo siamo all'interno del santuario di san pio da pietrilcina e in questo luogo proprio nel percorso che ci porta verso la chiesa inferiore dove sono custodite le spoglie mortali la preziosa reliquia del corpo di san pio da pietrilcina ecco vogliamo ricordare raccontare attraverso anche questi mosaici da un lato vediamo la vita di san francesco d'assisi e dall'altro alcuni episodi della vita di san pio da pietrilcina ecco raccontarvi quanto era importante per padre pio immedesimarsi in questa figliolanza verso il serafico padre francesco e proprio per questo ci piace qui ricordare un episodio che ci racconta padre marcellino ma l'autore è padre pellegrino funicelli che un pomeriggio cercava padre pio erano le prime ore pomeridiane e lo trova lui racconta con un figlio spirituale antonio un professore di matematica stava colloquiando normalmente su tutto quello che accadeva nella sfera familiare di antonio ecco non era una confessione ma era un colloquio chiaramente il discorso si interruppe nel momento in cui arrivò padre pellegrino ma padre pellegrino continuò a conversare anche con padre pio ed antonio infatti fu proprio padre pio che dopo aver scambiato qualche battuta con padre pellegrino disse beh cosa stavamo dicendo antonio e subito antonio riprende il discorso vado sul virgolettato padre stavamo dicendo che io e i miei familiari osserviamo non solo tutti i comandamenti della legge di dio ma anche i precetti della chiesa l'obbligo della messa festiva padre pio scrive padre pellegrino chiaramente ironicamente con un po' di sussiego non antipatico ma grazioso disse ah sì e allora non vi azzardate a fare qualcosa di più di io ve ne scampi e ve ne liberi chiaramente in modo molto ironico poi il padre pio aggiunse non mi meraviglio perché vi conosco bene sempre solo lo stretto necessario per rimanere nei limiti della legge guardatevi dagli eccessi alle opere buone altrimenti potreste anche ammalarvi di cuore quindi o di nervi e quindi qui padre pio continua ancora nell'ironia beh sorpreso da queste parole contro gli ostinati risparmiatori di energie intellettuali scrive padre pellegrino antonio antonio si ammutolisce e non parla più padre pellegrino che era entrato volentieri in conversazione ad un certo punto quasi per prendere le difese di antonio disse padre secondo me uno che ha fatto quello che è strettamente necessario chiaramente per rispettare i precetti della legge di dio e i precetti della chiesa può essere anche elevato agli onori degli altari padre pio ebbe come un attimo di smarrimento o di disappunto forse ma si dominò e ancora continua a fare l'ironico disse con la buona salute auguri allora padre pellegrino la conversazione però poi si allontana un po dal tema ma padre pellegrino subito lo riprende e mettendosi nella parte nei panni di antonio del professore di matematica figlio spirituale di padre pio disse padre il professore qui presente frequenta assiduamente anche le riunioni dei gruppi di preghiera quindi lui pratica una devozione che non è neanche richiesta dalla chiesa e subito padre pio si fa serio e precisa anche queste riunioni caro padre pellegrino potrebbero ridursi alla soddisfazione di un obbligo di un obbligo soltanto i partecipanti ai gruppi di preghiera o a qualsiasi funzione religiosa dovrebbero essere pronti ad accogliere la parola le ispirazioni di dio come lo fu per san francesco a san damiano grazie a tutti Grazie a tutti.